Sindaco De Emilio, anche quest'anno Palena ospita il ritiro del Pescara, lei ha subito lanciato una proposta, quella di far diventare Palena un po' la cittadella per il Pescara. Dopo quattro anni, mi auguro, dipende sempre dalla proprietà, mi auguro che questo avvenga, perché Palena crede nel Pescara, perché Pescara ha creduto nel Palena, quindi quale situazione migliore per far sì che con questo avvenga. Noi come amministrazione ce la stiamo mettendo tutta, siamo a due anni dalle prossime consultazioni, siamo lì per approvare un progetto esecutivo per quanto riguarda il completamento della struttura che già è a buon punto e con questo completamento ci auspichiamo che sia veramente una struttura idonea a farsi che accoglie una squadra, mi auguro di Serie A, incrociamo le dita. Qual è il segreto di questo connubio che va avanti tra Palena e la società del Pescara con il presidente Sebastiani? L'umiltà, la sincerità e la tranquillità, tra persone serie basta una stretta di mano, non ci servono contratti, non ci serve nulla e quindi con tutta sincerità andiamo avanti senza problemi. Lei poi ha puntato anche l'indice sul fatto che l'Abruzzo non è una terra che magari è promossa come si dovrebbe, questa è anche una strategia di marketing in qualche modo? Assolutamente sì, infatti noi lottiamo tanto per far sì che l'Abruzzo venga conosciuto in Italia e nel mondo, noi abbiamo delle bellezze inestimabili, noi abbiamo un eremo celestiniano per la bellezza che è, abbiamo tante attività, abbiamo un'area faunistica dell'Orso, abbiamo un museo dell'Orso, abbiamo delle attività di torrentismo, abbiamo tante di quelle peculiarità e di quelle attrattive che non hanno uguali in altre zone. Quindi è il minimo che si possa fare, però il calcio richiama tante persone, quindi quale marketing migliore se non un'occasione di avere uno specchietto da parte che conosce come quello di avere una squadra qui a Palena.